Abbiamo sentito delle storie interessanti sul futuro della sanità, della salute, dell'elettronica, del cibo. Il mio sogno è capire come possiamo utilizzare tutto questo potenziale di creatività, di passione e talento per promuovere la crescita economica, per creare le aziende, per creare i posti di lavoro. Queste sono nobbi oppure qualcosa di più. Questa è la sessione che abbiamo adesso. È il business dei maker. E adesso è un grande onore avere con noi il leader del movimento dei maker è il maker della GDP. Buongiorno a tutti. È un grande onore essere qui per la seconda Maker Faire di Roma. Questo è l'anno del maker. Questo è l'anno del maker. È stato un anno abbastanza triste. Questo è cominciato a gennaio con la Maker Faire che abbiamo mai fatto sotto la nera in Norvegia, Oslo. Ho cominciato a andare in diverse fiere e sono stato a Shenzhen e in Cina e abbiamo cominciato a capire il movimento dei maker emergente in Cina. in Cina che ha così tante fabbriche, però che comincia anche a sviluppare le sue idee su cosa produrre. Poi abbiamo organizzato la grande Maker Faire in San Francisco e poi siamo andati a Danuver in Germania per il secondo anno del maker fair. Una fiera e due giorni e abbiamo cominciato a sentire cose diverse e in ogni fiera ci sono cose diverse, diverse sapanti. Poi abbiamo fatto due settimane fa una Maker Faire a New York City con migliaia di persone. Poi abbiamo oggi una Roma e che significa che l'anno scorso abbiamo avuto 150 Maker Faire. Qualcosa sta accadendo? Ne vorrei iniziare tornando alle origini. Dieci anni fa io ho cominciato a scrivere una rivista. L'idea era quella di scrivere dei progetti che utilizzavano la tecnologia, prodotti carini. Stesso abbiamo dei progetti, però non vediamo le istruzioni per poter capire come funzionano, per poter duplicare. Questo era l'obiettivo della rivista. Nella primo numero mi sono reso conto che noi non volevamo avere utenti oppure lettori. Volevamo avere Maker, però non avevo alcuna idea che la parola fare e questa identità del Maker sarebbe stata utilizzata e si sarebbe diffusa in tutto il mondo. Molto velocemente, spesso mi chiedono, i giornalisti mi chiedono, mi puoi dare la definizione di un Maker? E io vi dico che non ce l'ho e questa è la cosa interessante. Cioè, possiamo definire che cosa è un Maker, però sono persone che creano progetti e li condividono. E il fatto di condividere il motore dell'attuale movimento dei Maker, come è stato detto oggi con Core, la capacità di condividere quello che noi sappiamo, quello che noi possiamo apprendere, quello che noi possiamo fare, questo ha un grande potere. E spero, quando avremo più persone che vengono nel movimento del Maker, che sappiamo che la capacità è la possibilità di formare delle comunità. E' l'idea che stiamo portando molti diversi persone insieme, che fanno diverse cose. E il Maker Faire, come si vengono a rinforzare, a capire le persone, a parte la presenza, la presenza, uno va a vedere dieci diversi progetti diversi. E non sono altrimenti collegati, ma in la comunità di Maker, e partecipano in una comunità di Maker, lo sono. Loro creano una cultura diversa, che permette ai Maker di condividere idee, di parlare, di condividere dei componenti, come Arduino, e l'uso di questi componenti standardizzati, aiutano a creare una comunità di esperti che sanno cosa fare. Perché se noi utilizziamo solo sistemi proprietari, non è possibile condividere le nostre conoscenze su come funzionano. E la formazione di questa comunità è la base di tutto. E c'è un senso di identità, l'identità di essere Maker. In qualche modo tutto questo è iniziato dall'idea di condividere. E' abbastanza importante, soprattutto perché la Momento di Maker adesso è di interesse nelle aziende. Non tanto solo produrre, ma anche condividere. Questo è vero anche per l'istruzione. Io penso che una delle ultime trasformazioni del Movimento di Maker è proprio quello di cambiare il modo in cui noi istruiamo i giovani. Cioè, incoraggiarli a fare progetti creativi e condividerli. E incoraggiarli a utilizzare differenti progetti, differenti idee, differenti cose. Cioè, noi prendiamo un'idea e la rendiamo reale. E noi come Maker stiamo cambiando il modo in cui le cose vengono prodotte. Il modo in cui vengono prodotte e dove vengono prodotte e cosa viene prodotto. E la cosa più importante è chi è che fa queste cose. Il fatto che la comunità è aperta e inclusiva. La comunità riesce a scoprire nuovi talenti. Persone che hanno delle idee originali che possono svilupparle che non avrebbero potuto farlo attraverso l'industria. ma possono aumentare le risorse che hanno bisogno, l'expertise che hanno bisogno e anche le risorse che hanno bisogno per fare qualcosa di reale e visibile per rendere il progetto qualcosa di reale e visibile per il mondo. John De Matos will be talking later about Kickstarter, but it's getting easier to take something from an idea, to prototype it, and to even find money to manufacture it and get it out into the market and make it real. And I think this really, literally, is changing who gets to participate in something that previously required a lot of capital and a lot of ideas. And I think the Maker Movement is exploring this kind of new creative freedom that we have to use these tools and to think about applications that maybe we might not have thought of previously or we might not have thought that we, or us, as individuals, could do this. And I think that's very powerful and I think that is, in essence, the engine, if you will, for the Maker Movement. Ricardo asked me to talk a little bit about sort of the business side of this. And, you know, in many ways, I think in addition to becoming a movement, it's becoming an ecosystem where we're seeing companies step in to play roles and either helping to develop ideas into products or to help with distribution or to help with manufacturing. So, I always think that one of the things about makers is they come to a place at Maker Faire with one of their projects and they share it with a group of people. And someone inevitably asks, can I buy that? Is that for sale? And sometimes they've never thought of that idea. And yet they'll go back and start thinking about how do I make more of these? How do I make a few of these? And see if I can sell them. And it's kind of an era of like small batch manufacturing, of doing small lots of things and seeing if you sell them and then moving on to the next level and the next level. And so, I think we're beginning to see these kinds of things emerge as makers creating products to sell increasingly services. But I'll give you an example of something that really, I thought it was just a great idea. And we talked about 3D printing earlier. We know you can buy a 3D printer from all different kinds of companies. but most people don't have 3D printers. And there are services like Shapeways where if you have a file and you want to have it printed, you can send it to them and they will send it to you probably back in a week or so. But a group out of the Netherlands, 3D Hubs, came up with the idea of networking 3D printers. And it's a wonderful idea. They have about 7,000 printers in their network. So if you're a hobbyist, you could actually say, I'll agree to make something for someone. and their idea is that you can have something 3D printed in your neighborhood. You can walk down and pick it up from someone because someone in your neighborhood might have a 3D printer. And it allows those people with 3D printers perhaps to afford a 3D printer, perhaps to pay for something that was fairly expensive for them, but it also allows them to start a business. And it's the kind of idea that I think you'll see as this Maker movement that sort of starts local but has this sort of global reach to create these kind of new opportunities. So again, I'm really happy to be here. Excited to see what this sort of new and bigger instantiation of Maker Faire Rome will look like and meet all of you and see what you're doing. Thank you very much. I have a very direct question for you. I have a very direct question. Not very diplomatic. Not very diplomatic. Which is the real European Maker Faire? The real Maker Faire Europe? It's complicated, I know. I won't get out of town unless I say Rome. No, no, I can say Rome. Maker Faire Rome is the European Maker Faire. Okay, Rome, thank you so much. Maker Faire Europe, thank you. Let's find out.